Tagliare un formaggio significa anche agire, in certi casi, sulla estetica del formaggio stesso. Nel senso che se noi tagliamo o con un coltello o con un filo un formaggio a pasta dura che andrebbe spaccato, ne mortifichiamo veramente la resa estetica. Non siamo in grado di mostrare l'eleganza della tessitura della pasta dei formaggi a pasta dura. Nello stesso tempo possiamo arricchire l'estetica di formaggi a pasta morbida che possono essere normalmente tagliati o col coltello o a filo usando dei fili, ad esempio, di acciaio armonico che danno un'arricciatura e una fiammatura al taglio che rende elegante la pasta.